La pazienza cristiana non è un atteggiamento degli sconfitti, non è rassegnazione, ma è la virtù di chi è in cammino. Così il Papa, che nell'Omelia della Messa Santa Marta oggi ha meditato sulla pazienza, che significa portare sulle proprie spalle difficoltà e prove, ed è la sapienza di saper dialogare con i limiti. Pazienza è quella che il Padre ha con ognuno di noi accompagnandoci e aspettando i nostri tempi, ed è quella dei nostri fratelli perseguitati nel Medio Oriente, cacciati via per essere cristiani. Abbiamo tanto bisogno di pastori che abbraccino la vita con l'ampiezza del cuore di Dio puntando in alto, pastori poveri in mezzo a un popolo povero che soffre, annunciatori coerenti della speranza pasquale in perenne cammino. Così il Pontefice e i membri del Sinodo della Chiesa Greco Melchita, ricevuti a Roma in occasione della manifestazione pubblica della comunione ecclesiastica, che avrà luogo domani mattina nella celebrazione eucaristica. Francesco esprime la sua vicinanza nella preghiera alla Chiesa Greco Melchita, all'Amata Siria e tutto il Medio Oriente. Ci vuole coraggio e onestà per contrastare la tratta, per far comprendere la portata del fenomeno e sensibilizzare. C'è l'ipocrisia di chi non vuole che se ne parli perché è coinvolto nelle organizzazioni criminali. Il lavoro di sensibilizzazione deve cominciare da noi. Papa Francesco lo ha detto oggi ricevendo in udienze i partecipanti alla giornata mondiale di riflessione contro la tratta di persone. Con lo sguardo del cuore rivolto alla grotta di Massabiella all'Urde contempliamo Gesù come vero medico dei corpi e delle anime che Dio Padre ha mandato nel mondo per guarire l'umanità, segnata dal peccato e dalle sue conseguenze. Così il Papa ieri nell'Angelus, ogni volta che ci accostiamo al sacramento della riconciliazione con cuore pentito, il Signore ci purifica, la lebra del peccato scompare, torniamo a vivere con gioia la nostra relazione filiale con Dio. Chiediamo al Signore la virtù della pazienza, propria di chi si mette in cammino e di fronte alle difficoltà della vita le prende sulle sue spalle con amore e non con rassegnazione. Lo ha detto il Papa nell'Omelia della Messa a Casa Santa Marta guidato dalla prima lettera di San Giacomo in cui è scritto «La vostra fede messa alla prova produce pazienza». Accade anche, ha ricordato ai cristiani perseguitati in Medio Oriente, che come Gesù sono entrati in pazienza, offrendosi cioè alla propria missione fino alla fine. «La pazienza significa portare su e non affidare un altro che porti il problema, che porti la difficoltà. La porto io. Questa è la mia difficoltà, è il mio problema. mi fa soffrire» e certo, ma lo porto. Portare su è anche la sapienza, la pazienza e la sapienza di saper dialogare col limite. «Ci sono tanti limiti nella vita, ma l'impaziente non li vuole, l'ignora, perché non sa dialogare con i limiti. C'è qualche fantasia di onnipotenza o di pigrizia, non sappiamo, ma non sa. Quando tornerete alle vostre sedi e incontrerete sacerdoti religiosi e fedeli, ricordate loro che sono nel cuore e nella preghiera del Papa. Così il Pontefice ai membri del Sinodo della Chiesa Greco Melchita, ricevuti a Roma in occasione della manifestazione pubblica della comunione ecclesiastica, che avrà luogo domani mattina durante la celebrazione eucaristica. «La vicinanza del Papa nella preghiera non può essere dissociata da quella per l'amata Siria e per tutto il Medio Oriente, rimarca Francesco, regione nella quale la Chiesa Greco Melchita è profondamente radicata e svolge un prezioso servizio per il bene del popolo di Dio. Una presenza alla vostra che non si limita al Medio Oriente, anche ai fedeli in diaspora e ai loro pastori vanno la mia preghiera e il mio affettuoso ricordo». In questo difficile periodo storico, tante comunità cristiane in Medio Oriente sono chiamate a vivere la fede del Signore Gesù in mezzo a molte prove. Auspico vivamente che, con la loro testimonianza di vita, i Vescovi e i Sacerdoti Greco Melchiti possano incoraggiare i fedeli a rimanere nella terra dove la providenza divina ha voluto che nascessero. Nella menzionata lettera di giugno ricordavo che mai, come in questi momenti, i pastori sono chiamati a manifestare davanti al popolo di Dio che soffre comunione, unità, vicinanza, solidarietà, trasparenza e testimonianza. Vi invito fraternalmente a proseguire su questa strada. «Come sapete ho indetto per il 23 di questo mese una giornata di preghiera e di giugno per la pace. In quella occasione non mancherò di ricordare in maniera speciale la Siria colpita in questi ultimi anni da sofferenze indicibili». I membri del Sinodo Greco Melchita giungono pellegrini a Roma presso la tomba dell'Apostolo Pietro a conclusione dell'ultima sise sinodale svoltasi in Libano, ricorda Francesco. «Si tratta sempre di un momento fondamentale, di cammino comune, durante il quale i Patriarchi e i Vescovi sono chiamati a prendere decisioni importanti per il bene dei fedeli, anche attraverso l'elezione dei nuovi Vescovi di pastori che siano testimoni del Risorto. Pastori che ammonisce il Santo Padre come fece il Signore con i Suoi discepoli, rianimino i cuori dei fedeli, stando loro vicini, consolandoli. Abbiamo tanto bisogno di pastori che abbraccino la vita con l'ampiezza del cuore di Dio, senza adagiarsi nelle soddisfazioni terrene. Pastori svincolati da una vita tiepida e abitudinaria, pastori poveri, non attaccati al denaro e al lusso, in mezzo a un popolo povero che soffre. Anunciatori coerenti della speranza pasquale, in perenne cammino, con i fratelli e le sorelle. Oggi il Santo Padre ha ricevuto in udienza nel Palazzo Apostolico il primo ministro della Repubblica Popolare del Bangladesh, la signora Sheikh Asina, la quale si è poi incontrata con il Cardinale Parolin, segretario di Stato, accompagnato da Monsignor Camilleri, sottosegretario per i rapporti con gli Stati. Nel corso dei cordiali colloqui, in forma una nota vaticana, sono state evocate le buone relazioni bilaterali e si è espresso soddisfazione per il recente viaggio apostolico, compiuto dal Santo Padre in Bangladesh e per la calorosa partecipazione all'evento da parte della popolazione, compresi numerosi non cattolici. Ci si è poi soffermati sul contributo della Chiesa nel Paese, specialmente in campo educativo e sull'impegno dello Stato nella promozione della convivenza pacifica tra le varie comunità religiose e a difesa delle minoranze e dei rifugiati, manifestando apprezzamento per l'accoglienza dei Rohingya e auspicando una soluzione giusta e duratura al loro dramma. Ci vuole coraggio e onestà per contrastare la tratta, per far comprendere la portata del fenomeno e sensibilizzare. C'è l'ipocrisia di chi non vuole che se ne parli perché è coinvolto nelle organizzazioni criminali. Il lavoro di sensibilizzazione deve cominciare da noi per stimolare poi le nostre comunità a impegnarsi affinché nessun essere umano sia più vittima della tratta. Papa Francesco lo ha detto oggi ricevendo in udienza i partecipanti alla giornata mondiale di riflessione contro la tratta di persone. È una vera forma di schiavitù, ha ribadito, purtroppo sempre più diffusa, che riguarda ogni paese, anche i più sviluppati e che tocca le persone più vulnerabili della società. Le donne, le ragazze, i bambini e le bambine, i disabili, i più poveri, chi proviene da situazioni di disgregazione familiare e sociale. È vero che sul tema della tratta c'è molta ignoranza. Ma a volte pare che ci sia anche poca volontà di comprendere. Puoi comprendere la portata del problema. È un problema grosso perché tocca da vicino le nostre coscienze, perché è scavroso, perché ci fa vergognare. un paese che fa questo o permette la tratta, non le piace che questo venga alla luce, perché si vergognarebbe tanto, si copre. Il problema della tratta sempre si copre. ci sono persone che, pur conoscendolo, non vogliono parlare, non vogliono parlarne, perché si trovano alla fine della filiera del consumo. ci sono degli imprenditori che affittano ragazzi per lavoro schiavo, li prendono, e ci sono dei consumitori, consumatori che vanno dalle ragazze non libere, schiave, perché quelle ragazze poi, quando tornano alla cassa del padrone, possiamo dire dal capomafia, devono pagare tanto e tanto per giorno. Per questa gente che va a sfruttare queste cose non è conveniente che il problema della tratta venga alla luce. La voce dei giovani, più entusiasta e spontanea, può rompere il silenzio per denunciare le nefandezze della tratta e proporre soluzioni concrete. Non ho mai perso occasione per denunciare apertamente questo crimine contro l'umanità, dice Francesco. occorre una presa di responsabilità comune e una più decisa volontà politica per riuscire a vincere su questo fronte. Responsabilità verso quanti sono caduti vittime della tratta, per tutelarne i diritti, per assicurare l'incolumità loro e dei familiari, per impedire che i corrotti e i criminali si sottraggano alla giustizia e abbiano l'ultima parola sulle persone. La guarigione di un lebroso narrata nel Vangelo di Marco nella liturgia domenicale è stata al centro dell'Angelus di ieri, 11 febbraio, memoria della Beata Vergine Maria di Lourdes e giornata mondiale del malato. Perciò, con lo sguardo del cuore, rivolto alla grotta di Massabielle, ha esortato il pontefice, contempliamo Gesù come vero medico dei corpi e delle anime che Dio Padre ha mandato nel mondo per guarire l'umanità segnata dal peccato e dalle sue conseguenze. Nell'Antico Testamento, spiega Francesco, la lebra era considerata una grave impurità e comportava l'isolamento del lebroso, una condizione veramente penosa alla sua, che la mentalità del tempo faceva sentire impuro, non solo davanti agli uomini, ma anche davanti a Dio. All'udire alla supplica del lebroso, se vuoi puoi purificarmi, Gesù sente compassione, non si capisce Cristo e la sua opera, sottolinea il Papa, se non si entra nel suo cuore pieno di compassione e misericordia. Questa lo spinge a stendere la mano verso quell'uomo malato di lebra, a toccarlo e a dirgli lo voglio, sii purificato. Il fatto più sconvolgente è che Gesù tocca il lebroso, perché ciò era assolutamente vietato dalla legge mosaica. Toccare un lebroso significava essere contagiati anche dentro, nello spirito, cioè diventare impuri. Ma in questo caso l'influsso non va dal lebroso a Gesù per trasmettere il contagio, bensì da Gesù al lebroso per donarli la purificazione. In questa guarigione noi ammiriamo la compassione e anche l'audacia di Gesù che non si preoccupa del contagio né delle prescrizioni, ma è mosso solo dalla volontà di liberare quell'uomo dalla maledizione che lo opprime. Nessuna malattia è causa di impurità, puntualizza il Papa. La malattia certamente coinvolge tutta la persona, ma in nessun modo intacca o impedisce il suo rapporto con Dio. Anzi, una persona malata può essere ancora più unita a Dio. Invece, il peccato, quello sì che ci rende impuri. L'egoismo, la supervia, l'entrare nel mondo della corruzione, queste sono malattie del cuore da cui c'è bisogno di essere purificate, rivolgendosi a Gesù come il lebroso. Se vuoi, puoi purificarmi. Quindi Francesco invita a meditare in silenzio. Ognuno di noi può pensare al suo cuore, guardare dentro di sé e vedere le proprie impurità, i propri peccati. E ognuno di noi in silenzio, ma con la voce del cuore, dire a Gesù, se vuoi, puoi purificarmi. Lo facciamo tutti in silenzio. Se vuoi, puoi purificarmi. Un silenzio breve ma intenso, quello che scende in piazza San Pietro. E ogni volta che ci accostiamo al sacramento della riconciliazione con cuore pentito, il Signore ripete anche a noi, lo voglio, sì purificato. Ma quanta gioia questo! Così la lebra del peccato scompare. Ritorniamo a vivere con gioia la nostra relazione filiale con Dio e siamo riammessi pienamente nella comunità. Per intercessione della Vergine Maria, nostra madre immacolata, chiediamo al Signore di sanare anche le nostre ferite interiori con la sua infinita misericordia, per ridonarci così la speranza e la pace del cuore. Un particolare pensiero rivolgo ai malati che, in ogni parte del mondo, oltre alla mancanza di salute, soffrono spesso la solitudine e la marginazione. La Vergine Santa, Salus Infirmorum, aiuta ciascuno a trovare conforto nel corpo e nello spirito grazie a un'adequata assistenza sanitaria e alla carità fraterna che sa farsi attenzione concreta e solidale. Infine, iscrivendosi tramite internet come pellegrino alla prossima giornata mondiale della gioventù che si svolgerà a Panama nel gennaio 2019, il Pontefice invita tutti i giovani del mondo a vivere con fede e con entusiasmo quest'evento di grazie e fraternità, sia recandosi a Panama, sia partecipando nelle proprie comunità. Non dimenticatevi le piaghe del Signore, non dimenticate la fratellanza tra voi, non dimenticatevi della Madonna sempre di fretta e di Giuseppe sempre al suo posto, in obbedienza e mitezza. Sono le tre raccomandazioni rivolte dal Pontefice sabato mattina ai partecipanti al capitolo generale della Congregazione delle Sacre Stimate di Nostro Signore Gesù Cristo. Consegnando il discorso preparato, Francesco si è rivolto loro con un discorso pronunciato a braccio in cui si è soffermato innanzitutto sulla vita comune. Non è facile vivere la fraternità religiosa perché ci sono i problemi umani, le gelosie, le incomprensioni. Tuttavia, esorta il Papa, bisogna arrivare al punto di poter parlare come fratelli. A volte si dicono cose che non piacciono, ma si dicono come fratello, cioè con carità, con dolcezza, con umiltà. Non si nascondono. La fraternità è una grazia se c'è la preghiera concreta per il fratello che fa il miracolo. Il Papa esorta a custodire la fraternità con le regole della libertà, la stima e la preghiera agli uni per gli altri. Il chiacchiericcio, ribadisce, è un alibi, è terrorismo. La seconda dimensione è nel vostro nome, dice poi, che viene dalle stimate. Le stimate, le piaghe del Signore, sono proprio la porta da dove viene la misericordia. Ognuno di noi è piagato e risolve la propria vita se la unisce alle piaghe del Signore. Soltanto la coscienza di una Chiesa piagata, di un'anima o un cuore piagato, ci porta a bussare alla porta della misericordia nelle piaghe del Signore, a contemplare e entrare in esse. Questa devozione è la vostra via di santificazione, insegnate alla gente che tutti noi siamo piagati. Un peccatore piagato trova perdono, pace e consolazione soltanto nelle piaghe del Signore. Terza raccomandazione, non lasciare da parte le devozioni alla Madonna e a Giuseppe, sempre docili a fare la volontà di Dio, come Maria, la donna sempre in fretta per aiutare, e Giuseppe, l'uomo mite, giusto, l'uomo del silenzio, della pazienza, del lavoro. Non sono devozioni da bambini, spiega Francesco, ma un consiglio per uomini che devono essere forti nell'annuncio del Vangelo. Andate dalla madre e andate da quell'uomo che ha fatto da padre e ha fatto crescere il Signore e imparate lì, in famiglia. Poste italiane è legata alla vita e alla storia dell'Italia e ha contribuito in certo senso a mantenerla unita, tenendo in contatto famiglie e luoghi lontani. La comunicazione è al cuore della nostra società e influisce sullo sviluppo economico di un Paese che ha bisogno di servizi efficienti e qualità. Così il Papa Sabato, ricevendo dirigenti e dipendenti di poste italiane, davanti al dramma della cultura dello scarto, conseguenza dell'egoismo e di profonda miopia spirituale, Francesco esorta a sposare sempre la logica opposta che pone al centro le esigenze e la cura delle persone. Negli ultimi decenni si sono trasformati quasi tutti gli aspetti della vita e della società a partire da mezzi di comunicazione e trasporto. La grande accelerazione impressa da una tecnologia sempre più sviluppata, onnipresente e non di rado invasiva, ha cambiato mentalità e stili di vita, creando nuove esigenze e richiedendo un'efficienza sempre maggiore. Ciò che è più importante nell'opera di ristrutturazione e rinnovamento che avete compiuto è di avere attuato una strategia di impressa fedele alla vostra vocazione originaria, di essere a servizio dei cittadini. Pur seguendo una logica di mercato, poste italiane ha posto al centro non il profitto, ma le persone, ricordando che tutti i servizi offerti verrebbero svuotati del loro valore se fossero fruibili solo da alcuni o non rispondessero alle esigenze concrete degli utenti. Questo è tanto più importante nel nostro contesto economico e sociale che così spesso punta a un guadagno fine a se stesso, dimenticando che la vera ricchezza sta nelle persone e quindi le tratta spesso come numeri senza volto. Chi ha un numero alto è considerato e rispettato, mentre chi è retenuto uno zero viene buttato via. La nostra cultura dello scarto di oggi. Il Papa ricorda che spesso il mondo del lavoro ignora le necessità legate all'essere madre e i bisogni delle famiglie che sono da proteggere e favorire ad ogni costo. Inoltre, la vicinanza alle persone che gli uffici postali e sportelli assicurano va mantenuta con tutte le energie perché garantisce a tanti, in particolare ai più deboli, un punto di riferimento per le loro esigenze come un presidio di difesa. Quindi Francesco incoraggia i dipendenti in rapporto quotidiano con il pubblico a mantenere un atteggiamento di disponibilità e benevolenza verso chi si rivolge a voi e a non dimenticare il sorriso. Come è difficile, ma quanto è importante, nota il Papa che nelle mille relazioni quotidiane tra colleghi e con i cittadini si conservi uno stile di ascolto, di disponibilità e di rispetto. Per questo è indispensabile allenare se stessi ogni giorno educandosi ad agire con misericordia anche nei piccoli gesti e nei pensieri. Il sorriso è sempre un ponte perché va da cuore a cuore. Chi si comporta così diventa contagioso perché il sorriso è contagioso e la pace che semina non manca di produrre frutto. Osservatore romano con la data di lunedì 12 martedì 13 febbraio. Spezzare le catene della schiavitù il pontefice chiede responsabilità e volontà politica per sconfiggere la tratta. Stati Uniti pronti al negoziato con la Corea del Nord. In Siria sofferenze indicibili la vicinanza del Papa ai cristiani medio orientali. Nuovi raid israeliani in Siria sale la tensione con l'Iran. L'udienza al primo ministro del Bangladesh una soluzione giusta e duratura al dramma dei Rohingya.